alimentati la potenza creatrice del pensiero amadeus volben 2007 a cura di vb occupa la mente con pensieri d'amore per tutti e per tutto se vuoi sentirti sano forte vigoroso alimentati di pensieri sani forti vigorosi per la tua mente a questo scopo dovrai costituire la più ricca riserva di pensieri di cui alimentarti questa segreta dispensa e la vera ricchezza che dovremmo tendere ad accumulare ogni giorno c'è chi al mattino fin dal primo risveglio rivolge deliberatamente la mente ha un pensiero da meditare per quel giorno chi ha compreso che la chiave della propria vita e nei pensieri più elevati che accoglie nella mente rifiuta quelli che portino disarmonia e inizia la giornata occupandola in maniera positiva grazie a tutti